Si è svolta presso il Teatro Mercadante di Cirignola in provincia di Voggia, uno spettacolo di beneficenza organizzato dall'Associazione Nazionale Grabinieri, diretta da Marcello Mortarezza. La serata è stata dedicata al tango argentino. L'evento è stato organizzato per una raccolta a fondi in favore degli orfani dei militari caduti in servizio. La serata ha visto esibirsi l'orchestra diretta da Mimmo Cavallo, che ha presentato il suo CD dal titolo a Poesta Fortango. L'intervista l'ascolterete nelle edizioni del nostro telegiornale. La dinamicità della serata in un mix che coinvolge e fa emozionare, così come Michi Padovana e Valentina Guglielmi, ma a sorpresa anche si può sentire una bellissima estrogente malena interpretata da Pantaleo Metta. E poi anche la Rudra Ballet di Ernesto Valenzano. Da Galiano a Piazzolla, tutta la magia del ballo più amato del mondo, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha visto per due ore un teatro mercadante cremito di gente e di appassionati. Ma anche chi non lo è è stato ininteressante vedere e sentire ed emozionarsi nella danza più bella del mondo. Mimmo Siena, speciale news dal Teatro Mercadante, Cirignola, Foggia.